Martedì 21 marzo alle ore 17.30 è stato convocato il Consiglio Comunale per approvare nove proposte. La mozione, giornata della memoria e dell'impegno ricordo delle vittime di mafia. Obbligo di redigere e approvare il bilancio del 2022. Approvazione del regolamento per l'istituzione della figura del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Modifica, modalità, rimborso, spese, viaggio, revisore dei conti. Intitolazione, luogo pubblico a fratel Biagio Conte. Ridipizzazione urbanistica in seguito a decadenza di vincoli espropriativi. Mozione dedicata a Luigi Tripisciano. Realizzazione nuovi servizi igienici all'interno del giardino pubblico denominato Villa Cordova.